Parte da questo calcio d'angolo l'azione e il gol è di Cabrini, 1-0 per la Juventus al diciannovesimo. Poi Laudrup che impegna in una respinta Garella, una punizione per il Napoli, pallone per Careca, il suo tiro, l'intervento di Tacconi, tribuna d'onore, passiamo al secondo tempo, Favero per Brio, poi Rash e Cabrini che sbaglia il gol, che poteva essere 2-0, poi Carnevale, Romano, scusate, Laudrup, Bruno e Rash che manca questa facile occasione. Ecco qui invece l'altra azione dei napoletani, Carnevale, Romano e la parata di Tacconi. Al diciottesimo Maradona, qui potrebbe pareggiare il Napoli, Careca, Carnevale, colpisce la traversa, sempre sull'1-0 per la Juventus. Al ventiduesimo però c'è il raddoppio da Mauro a De Agostini, da questi a Rash ed è gol, 2-0. Poi Laudrup viene atterrato in area da Ferrara al ventottesimo, l'anese decreta il rigore per la Juventus, De Agostini trasforma, è il 3-0. E al trentottesimo, bella, guardate, davvero bella, azione di Maradona, guardate come si districa in area, conclusione a rete di Careca per il 3-1.